breve commento al vangelo di martedì 18 gennaio 2022 oggi gesù cristo torna a respingere la religione di conformità la religione è per adorare dio e amare tutti gli uomini i farisei che stanno parlando con il signore non amano certamente soddisfano le esigenze del sabato ma amano qui li vediamo criticando i seguaci di gesù perché non riposano come loro a che serve compiere con la religione se può disprezzo gli altri può dio sentirsi lodato con le mie critiche